Non c'è soltanto lo stadio di Firenze, l'Artemio Franchi, tra gli impianti sportivi che potrebbe essere ristrutturato grazie ai fondi in arrivo dall'Europa. Quelle risorse potrebbero essere fondamentali per dare nuovo fiato ai tanti impianti della nostra regione. In Toscana attualmente ci sono 6.200 strutture, il 93% di queste è funzionante ma ha una media di 35 anni. Il 77% degli impianti infatti è stato realizzato prima del 2000 ed il 34% del totale è stato realizzato tra il 61% ed il 1980%. Impianti che sono stati al centro di una analisi fatta dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per mettere in evidenza come lo sport ma anche le strutture possono essere un volano fondamentale per il recupero ambientale e per valorizzare la salute di tutti. Abbiamo la possibilità attraverso proprio queste linee guida da poterle inserire nei vari progetti degli impianti sportivi per poter attingere proprio questi fondi e poter realizzare degli stadi, degli impianti, delle piscine, degli impianti di atletica funzionali, comodi ma al tempo stesso che vadano a recuperare quelle che sono in questo momento delle discrepanze per quanto riguarda l'energia elettrica, per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda tutte queste caratteristiche che logicamente in questo momento abbiamo la necessità di dover riportare.